e allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono grazia 3 4 ed oggi siamo sull'account di best stama il quale mi permette di rollare ben 19 mila 521 gemme alla ricerca di barbabianca e cavalier teschio la cosa che forse qualcuno di voi ricorderà forse qualcuno non ricorderà invece è che questo account è totalmente free to play come vedete non ha mai fatto acquisti di gemme queste qui penso siano soltanto pubblicità 378 gemme sono veramente nulla ma nulla 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 infatti ragazzi tutte queste gemme risparmiate sono qualcosa che apprezzo davvero davvero in una maniera esagerata quindi grazie mille a best per questa opportunità e dire di cominciare subito con i roll per vedere che cosa riusciremo a trovare cominciamo con i roll lo sapete io comincio sempre con un roll da 3 vediamo che cosa ci esce un bel niente peccato veramente peccato continuiamo con qualche roll da 1 un terzo panda perché non c'è due senza tre non so se ho premuto si ho premuto un carnefice è un bel roll da 3 cupido fantastico ragazzi cupido già dopo pochi roll ma non è quello che cerchiamo sicuramente utile per le evoluzioni ma non è lui che cercavamo neanche questo campione gelatino se nemmeno la linfa nemmeno quest'altra linfa mi sento un bel roll da tre vede un po paladino paladino peccato è un po da 1 di nuovo linfa panda qualcosa che non ci fa vedere tritone assassino da 3 campione gelatinoso beh sempre buono sono 3000 punti esperienza di da 3 dai questa volta niente continuano da 1 linfa forse abbiamo bisogno almeno del teschio campione gelatinoso forza assassino forza devone dei ghiacci forzissima no non è forzissima questo tecnico sciamano assassino riproviamo da 3 niente blu blu verde da 1 questa volta non mi sento molto carico in questo momento quindi vediamo quando mi sento più fortunato faccio un roll da 3 e probabilmente prendo il leggendario perché lo sapete vabbè verde blu e poi il viola lo sapete come funziona boom boom ma perché lo fai a scoppio ritardato vediamo un po se riusciamo a prendere questo barba bianca in questo roll da 3 no strea del gelo assassino sciano peccato peccato vediamo con un roll da 1 atlanticuore cavolo ho visto le scintille mi sono gasato riproviamo da 1 sciamano linfa di cristallo da 3 cavolo il tecnico speravo di prendere barba bianca abbiamo internet un po lento anche oggi ragazzi è un periodo in cui internet è leggermente più lento del solito carnefice licantropo dai 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 forza da 3 no non abbiamo tre slot da 1 assassino dai andiamo liberare qualche slot perché voglio fare roll da 3 lo sapete io li adoro sono una cosa che più mi diverte fare in questo gioco cioè non proprio però nei roll preferisco un roll da 3 un roll da 1 e anzi se mettessero il roll da 10 sarebbe qualcosa di fantastico facciamo un roll da 1 vediamo che cosa ci esce niente allora altri due roll da 1 poi uno da 3 assassino linfa di cristallo roll da 3 ce la fai dai ce la fai no 2 verdi e un blu ma che cos'è riproviamo ultima possibilità da 3 ultimissima poi tutti da 1 ok ora tutti da 1 vediamo un po se riusciamo a prendere questo barba bianca altre 9000 gemme ragazzi angelo verde blu e questa volta due roll veloci blu cioè blu vabbè avete capito due roll da 1 veloci di nuovo da 1 di nuovo da 1 dai non è possibile ho detto solo roll da 1 e questa volta porterò questa mia frase fino alla fine non cederò all'ultimo roll come ho fatto nel precedente video non mi arrenderò e farò un roll da 3 adesso come vorrei fare perché sono 500 gemme e quindi mi viene da fare il roll da 3 forza forza no vabbè due blu di fila dai campione gelatinoso dai almeno ho visto il viola però voglio un leggendario 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 ninja non è il leggendario che cercavamo no ragazzi un roll da 3 lo devo fare è più forte di me non ce la faccio succube che che ci faccio con la succube cioè ho bisogno di teschio e barba bianca non ci faccio nulla con la succube dai da 1 da 1 quindi verde blu e viola non abbiamo le slot viola viola no verde di nuovo forza licantropo che liberiamo un altre due slot e vediamo poi che cosa ci esce vediamo ragazzi che cosa ci uscirà con queste ultime 5 mila gemme roll da 3 niente gigante delle colline di nuovo roll da 3 io ho detto basta i roll da 3 ho detto no al colesterolo sia candy cane ma non la cercavamo candy cane porca eva dai abbiamo bisogno di barba bianca e teschio 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 flangio barba bianca siiii vai siiii e gliel'abbiamo trovato e vai ora solo il teschio ragazzi ora solo il teschio ci manca porca ma che felicità vediamo di liberare subito una slot se trovo allora si può andare anche da qui a liberare le slot mi ha detto di sacrificare un verde perché si ne ha effettivamente troppi sacrifichiamo lui il tecnico livello 60 perfetto lo sacrifichiamo su 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 sulla zucca no su cupido su dracula su non lo so chi stai portando su direi il golem la skill a 4 vedi che va un po alzata allora te lo sacrifico qui per lasciarti il segno alza questa skill perché serve a 5 ok utilizziamo la carta barba bianca vediamo con che talento c'è uscito barba bianca vai adesso ragazzi abbiamo ancora 2871 gemme vediamo se riusciamo a prendere questo benedetto benedettissimo teschio 1 su 2 l'abbiamo preso con pelle coriacea 1 beh non è il massimo però possiamo continuare con i roll vediamo di utilizzare qualche carta su di lui così realizziamo un po la skill dai ragazzi ancora 2800 gemme vediamo se riusciamo a prendere chi è che mancava il teschio il teschio l'ho detto senza cioè ho rollato senza dire chi cercavamo quindi non l'abbiamo trovato riproviamo niente linfa panda assassino di nuovo roll da 1 assassino soltanto cecchino quindi verde blu ragazzi io mi sento un dito teschioso no era un dito da cecchino perché io lo sapete sono il cecchino di qualunque gioco voi giochiate sono il cecchino rimangono 900 gemme faremo due roll da 3 ragazzi gli ultimi due roll vediamo che cosa ci esce oh qui niente ultimo roll forza abbiamo bisogno del teschio 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 campione gelatinoso peccato visto viola mi sono gasato ma purtroppo non abbiamo trovato il teschio ragazzi abbiamo trovato però barba bianca che era uno dei due eroi richiesti quindi mi sento molto soddisfatto anche perché oltre a barba bianca abbiamo trovato un sacco di eroi leggendari tra cui anche cupido e candy cane che non so se lui abbia già come eroe non so vediamo un attimo se ce l'aveva candy cane candy cane vediamo un po 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 mi sembra proprio di no no non ce l'aveva candy cane quindi gli abbiamo trovato due eroi che gli mancavano però purtroppo niente teschio ragazzi questo video giunge al termine spero vi sia piaciuto vi invito a lasciare un like un commento e soprattutto se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti